Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. In questo video comunichiamo una notizia che ha sconvolto il mondo intero. È morto poche ore fa il giovane ragazzo di appena 19 anni, particolare, davvero inquietante, perde la vita a seguito di un infarto. E prima di saperne di più vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video. Si può morire di infarto a soli 19 anni? La risposta purtroppo è sì, ed è ciò che è capitato a Matteo Spavlak, un volto noto del bodybuilding mondiale. Il ragazzo era un giovane atleta che sognava una carriera da professionista. Matteo Spavlak, di nazionalità brasiliana, è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione, a Blumenau, nello stato di Santa Catarina, in Brasile. Perde la vita a soli 19 anni, come detto. A Matteo è stato fatale, un infarto. Il ragazzo è stato rinvenuto senza vita. All'interno della sua abitazione, la notizia ha scioccato il mondo intero. Matteo Spavlak sognava di diventare un bodybuilder professionista e già a livello regionale aveva vinto tantissime gare. Purtroppo il suo sogno si è infranto, che possa riposare in pace. Amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul secondo livello di Marco Liguori, il canale dei video di cronaca, seguitemi anche sul canale Marco Liguori News, seguitemi anche sul nuovissimo canale Marco Liguori. Psicologia e crescita personale, ciao a tutti.